Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovissimo video Oggi 27 ottobre, da Amazzogneria ad un pacco Comunque adesso prendiamo la saccagna e passiamo alla bozza Cosa ho preso? Allora, ho preso un libro per bambini La Stella di Laura, eccolo qua Dunque, della Stella di Laura ci hanno pure fatto un cartone animato Che io me lo vedevo da piccolo Ed era un cartone animato proprio bellissimo Altro che, sta schifezza di Peppa Pig Lo trasmettevano sulla Rai E comunque, allora, eccolo qua il libro Qua c'è scritta la tra L'ha preso, l'ho preso con la carta del docente di mio padre Allora, la Stella di Laura, una notte che non riesce a dormire Laura, vede una stella cadere sul marciapiede di fronte alla sua casa La bimba la soccorre e la porta nella propria cameretta Ma il mattino seguente Una storia tenera sull'amicizia Che si insegna come a volte sia inevitabile separarsi da ciò che si ama Qua all'interno E, ok, un po' le immagini Qua la storia dell'autore Klaus Blumpart E comunque Vabbè, comunque poi vi farò pure un video In cui leggerò questa storia E niente, ci vediamo alla prossima Ciao